Il modello Trieste in psichiatria è una realtà ormai riconosciuta a livello non soltanto nazionale. Si è sviluppato negli anni partendo dall'esperienza di Franco Basaglia ed ora è pronto per una nuova avventura. La legge Basaglia è stata la legge innovativa che ha permesso la chiusura degli ospedali psichiatrici, la loro apertura nel campo sociale, la costituzione delle cooperative sociali che hanno festeggiato quest'anno i primi 50 anni, quindi Trieste veramente esporta il modello. Della possibilità che il nostro modello attecchisca in Sudan, Camerun, Chad e Repubblica Centroafricana si è discusso durante il convegno salute mentale di comunità verso un percorso condiviso che coinvolge appunto quattro paesi in attesa di poterlo sperimentare quel modello. L'iniziativa è stata organizzata dalla sede di Khartoum della ICS. Noi come Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo teniamo il settore della salute mentale come uno dei settori fondamentali del nostro intervento nei paesi in via di sviluppo dove operiamo, non solo quello della salute mentale ovviamente ma anche altri settori che sono di competenza anche della nostra cooperazione. In particolare il convegno si è focalizzato sugli stili operativi, le culture e l'organizzazione che si sostanziano in un sistema di servizi open door e non restraint. Si avvalgono costantemente dell'apporto di altri enti pubblici del terzo settore, agenzie, associazioni, organizzazioni non governative, cooperative sociali, cittadini, per la costruzione di percorsi di concreta tutela dei diritti e di accesso all'opportunità del territorio di chi vive, insieme alle proprie famiglie, una condizione di disagio e di marginalità. Non sarà certamente un passo semplice esportare questa esperienza in quei paesi, nessuno lo nasconde, anche se è altrettanto vero che ad esempio in Camerun ci si sta avviando verso qualcosa di interessante in tal senso. La salute mentale è ritenuta uno stigma, i ragazzi o le persone con questa disabilità, se la vogliamo chiamare disabilità, vengono reclusi in casa o negli ospedali psichiatrici, quindi speriamo noi che con l'involgimento di questi esperti che sono presenti oggi e con il nostro supporto anche finanziario ovviamente in futuro, possiamo dare un beneficio a queste persone e ai paesi dove operiamo per una migliore gestione di queste problematiche. Molto sta cambiando, c'è una notevole sensibilità per quanto concerne la nascita delle comunità di supporto. Diciamo che c'è un terreno fertile per adattare il modello Trieste e il modello italiano. Molto si è fatto in Camerun a livello di associazioni, in una nazione che finora poco ha fatto per venire al loro incontro. Ora c'è una maggiore collaborazione con il governo, ma c'è anche la necessità di aumentare le risorse a disposizione. Tutto ciò, è bene sottolinearlo, è visto come un'opportunità di sviluppo in un settore comunque difficile e complesso, tenendo conto che ormai questi paesi adesso sono in ogni caso già preparati. Non parlerei di una sfida, c'è una base solida sulla quale possiamo contare per dare il via a qualcosa di concreto. Sono fiducioso che da tutto ciò possa nascere qualcosa di positivo e il mio non è affatto un ottimismo come dire naif. Grazie a tutti i nostri spettatori e i nostri spettatori,